Musica Musica e balli all'ex palestra Gilditore del Greco per regalare qualche ora in allegria alle persone anziane. Uno spazio già destinato dall'amministrazione comunale alle varie realtà associative del territorio per la promozione di numerose attività. Un pomeriggio di feste e di allegria con il Centro Sociale Anziani e l'Associazione Terza Giovinezza. L'occasione per stare insieme e scambiarsi gli auguri di Natale. Auguro buon Natale a mia figlia Anna Bella. Auguri buon Natale a tutti. Auguri buon Natale. Ciao buon Natale Maria buon lavoro un bacione. Buon Natale a tutti e felice anno nuovo. Auguri buon Natale buon Natale ciao. Auguri auguri a te. Auguri buone feste. Auguri di buon Natale buon anno a tutti 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 in particolar modo alla mia famiglia. Auguri a buon Natale a tutta la tua famiglia e alla mia famiglia. Tanti auguri di buon Natale a tutti gli associati di terza giovinezza. Siamo pronti? 3, 2, 1. Auguri! Allora ci salutiamo, ci salutiamo.